Io me la ricordo da quando ero piccolina e cercherò di fare in modo che la cosa rimanga riservata. Ma lei dovrà fare il suo dovere, naturalmente. Sì, certo. Però qui una denuncia vera e proprio non ce l'abbiamo né da una parte né dall'altra. Ma i fatti che risultano sono questi. Leggiamo. Il gambardello Gerardo Parai Pasticcere ha dichiarato che poco dopo la fine della partita al campo sportivo nel locale delle docce è stato fatto oggetto di pesante attenzione, di proposto sconveniente da parte del signor Sergio Vandor di Udine, professione musicista. E bravo Vandor. Il gambardello reagiva con violenza, eccetera, eccetera. Pugni, schiaffone, niente di grave, signori. Qui la denuncia non ce l'abbiamo. È meglio che chiudiamo qui e la facciamo finita. Lei accompagna questo bravo ragazzo e non ci pensiamo più, va bene? Vieni, andiamo. Vada, vada, vada. Arrivederla, maresciallo. Grazie a tutti. Prego. Mi saluti la famiglia, eh? La mamma e il papà. E anche quella cara e tiavelina. Ma...